Mi chiamo Martina, sono un graphic designer e videomaker e attualmente vivo il lavoro a Dublino. Ho sempre voluto lavorare nel campo della creatività, sono quasi sempre con la mente altrove, come se fossi in un altro universo, e amo l'idea di vedere spesso le cose in modo differente, da diversi punti di vista. Ho studiato alla LABA di Firenze e mi sono laureata qualche anno fa in graphic design e multimedia. La LABA è sicuramente un ambiente stimolante che ti spinge a voler conoscere ed imparare sempre cose nuove, mettendoti così alla prova per riuscire a dare il meglio di te stesso. È come se ci fosse un qualcosa che riesce a tirar fuori la tua vera passione, ed è così che mi sono innamorata del cinema sperimentale e del video. Il video, così come il cinema, per me sono la massima espressione della comunicazione, immagini in movimento e suoni messe insieme. La cosa che amo più fare è la post-produzione, stravolgere e distorcere le immagini, creando nuove forme e significati, rompere le regole e non avere un ordine logico. Cerco sempre di incuriosire lo spettatore e far così scaturire lui delle domande, perché mi piace l'idea di poter in qualche modo mettere in moto la sua immaginazione. Posso definire la LABA come una seconda famiglia, una piccola realtà dove tutti conoscono tutti. Ho instaurato così delle belle amicizie, non solo tra colleghi, ma anche con i professori, che spesso poi diventano anche compagni di progetti futuri fatti insieme. Ed è proprio questo che mi piace della LABA, che oltre alla formazione professionale ti lascia molto di più di ciò che ti aspettavi. Credere sempre nelle tue abilità e seguire i tuoi sogni, impegnarsi e lavorare duramente, mettersi sempre alla prova e non arrendersi mai. Se vuoi, puoi.